Matteo Villani, Head of Asset Management of Fontobel Italy, buongiorno, oggi tutti gli risparmiatori e gli investitori si chiedono come sarà il 2018, siamo partiti con un inizio di anno molto brillante, avevamo chiuso il 2017 nel migliore dei modi e si pensava che il 2018 potesse essere una ripetizione del 2017. Che cosa è successo? È successo che con febbraio è aumentata la volatilità, ci sono state delle preoccupazioni prima sui temi inflazionistici, ora sulla crescita con i problemi tariffari, come comportarsi e che cosa ci possiamo aspettare da questa fase? Senz'altro gli investitori dovranno fronteggiare una maggiore volatilità, per questo bisogna essere più prudenti, ma quali sono i fondamentali che oggi ci riserva l'economia? Le economie stanno crescendo di concerto tutte in modo positivo, c'è ancora il buon operato delle banche centrali, per cui quello che noi crediamo è che la crescita potrà continuare, è chiaro che dovremmo essere molto più selettivi, più selettivi e più diversificati, come Fontobe noi suggeriamo soluzioni ad income, perché quello che richiedono gli investitori è un reddito, quindi una buona diversificazione sull'obbligazionario, un costrate e sull'azionario di qualità.